La prima, il primo fattore da dotare è il cambio a dotare di approccio. Noi, un anno fa, noi, eravamo in questa aula con una giunta che si presentava, in qualità, con cinque anni di trattative che hanno guardato solo la puntabilità via, per non riuscire a vedere quelli degli anni precedenti della precedente amministrazione, si presentava con un accordo fatto e finito pensando che non solo il Consiglio, ma innanzitutto la propria maggioranza fosse fatta semplicemente in bassa carte che dovevano, che avrebbero dovuto ratificare le decisioni prese in anni per sé. E non è vero che il Consiglio non si pronunciò, non è vero che un accordo di programma non fu votato, un accordo di programma non fu votato. Per questo motivo, perché innanzitutto la stessa maggioranza, trattata di un modo della propria giunta, per la sicurezza, e quindi il risultato che si è prodotto è che un Consiglio comunale e una propria maggioranza trattata come passacarte, hanno di fatto lasciato un milione e due metri quadri della città integrata. Non c'è stato un problema politico interno alla maggioranza, che è stato messo da tutta la città, e io, tutti, tutti e due metri quadri, lasciate per generare. Oggi si è cambiato un ordenamento di approccio, e questo significa che dobbiamo dare atto, merito, a chi ha proposto un approccio.